io sono particolarmente impressionato da quello che parla abbia detto draghi in consiglio dei ministri oggi ha detto un po di cose cioè ha fatto una allora è andato a brusseli dove evidentemente gli hanno probabilmente gli hanno fatto pressione lui è andato da mattarella a riferirlo e poi ha convocato i capigruppo diciamo dei partiti della maggioranza e ha fatto loro una solenne ramanzina e la ramanzina che gli ha fatto visto che veniva a brussel risponde a quello che diceva prima giuseppe la fonte è di lì e la ramanzina naturalmente riguarda il lui si è lamentato del fatto che in momento siano stati votati quattro emendamenti così molto parzialmente modificativi di mille proroghi provvedimenti che lui aveva in mente ma le cose che ha detto sono impressionanti perché oltre a dire va bene il governo è qui per fare le cose non si va avanti e le cose naturalmente sono deforme e le opere delle quali parlava giuseppe ma poi ha detto delle cose incredibili due in modo particolare la prima il governo è qui per fare le cose il parlamento a garantirgli i voti cioè il mestiere dei partiti e del parlamento ai garantire i voti a quello che fa il governo perché quello che fa il governo non può essere messo in discussione perché me lo dice brussel ok riforme e opere e poi la seconda cosa incredibile che ha detto questa veramente è draghi questo si se dovessi scrivere un libro su braghi parlerei di questa frase qua non siamo qui per essere realisti cioè a contatto con la realtà siamo qui per essere idealisti a questa frase è impressionante perché se ci pensate in effetti tutto dal vincolo esterno in avanti tutto il concetto di questi è sempre stato l'italia fa schifo la dobbiamo cambiare dobbiamo farlo diventare tedesca e non ci interessa niente come c'è la realtà se fossimo realisti prenderemo atto che abbiamo a che fare con l'italia invece noi siamo idealisti quindi vogliamo avere a che fare con la germania e tutto quello che si impone fra l'italia l'italia essere l'italia essere una cosa completamente diversa non ci importa cioè ci passeremo sopra comunque era armato quindi le piccole industrie li distruggiamo i piccoli negozi li distruggiamo gli scusiamo nei modi che conosciamo cura monti super green pass bollette elettriche eccetera 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 e questo è draghi e in fondo è anche super green pass noi imponiamo delle riforme che a voi sembrano manifestamente assurde delle spese come diceva giuseppe assurde perché certamente non è in quelle cose lì che dovremmo spendere non non dobbiamo spendere non dobbiamo metterli lì per esempio delle macchine elettriche e però però quello quello che però non ce ne frega niente cioè non ci interessa se quello che vi stiamo ordinando non risponde voi non l'avreste mai fatto perché dovete essere idealisti e essere realisti cioè avere il contatto diciamo ascoltare le esigenze del sistema produttivo del popolo elettore dei pensionati di chi volete voi non si fa perché siamo idealisti ecco